Resta dietro di me! Azione! Resta dietro di me! 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 Ah, mio Dio! Eeeh! Jack! Stop! Tenten! Jack! Aiuto! Resisten! Arrivo! No! 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 Sono in treppola! Ti ha preso! Se aprire la sua attenzione provo ad uscire! Sbrigati! Distruggerà tutto! Vieni dai! La parte Jack! Muoviti! C'è una porta! Posso provare ad aprirla se mi lascio il tempo! Sparagli! Questo loro vi aiuterà! Non ti hai scappato! Spergi un distrugno! Non ti hai scappato! Spergi un distrugno! Ah! Spergi un distrugno! Spergi un distrugno! Spergi un distrugno! Spergi un distrugno! Vieni cura! Si apre! Alla tua sinistra! Vieni cura, Jack! Ce l'ho quasi fatta! Attenzione a destra! Fatto! La porta è aperta! Sprigati! Jack! La porta è aperta! Sperdi là! Trovo da rabbicarmi! Aiutami! Sta arrivando! Sono in trappola! Presto, Jack! Dammi la mano! Dammi la tua mano! Oddio mio! Trovata originale per chiedere la mano di una signora, Mr. Triscol. Eh? Cos'è stato? Jack, sei tu? Siamo noi! Jack! Ben! Ciao, Ace! E tu, Jimmy? Come va? Salve, Miss Darrow! Bentornata, Miss Darrow! 1985? ろ tab!! Questa volta torniamo a casa per davvero! Grazie a tutti.